bello a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video io sono maullo941 e oggi siamo tornati su slithery ogni tanto variamo un po di giochi allora non perdiamo tempo mettiamo il nostro bellissimo nick maullo941 e siamo pronti a partire ricordiamo che l'ultima volta abbiamo fatto il nostro record che di 2346 punti raga se non si bagga come l'ultima volta che si è baggato in una maniera terribile dovremmo riuscire a cercare di fare qualcosina in più allora per ora stiamo fa la nostra bella vita tranquilla non stiamo disturbando nessuno il nostro bellissimo vermetto giallo cammina corre per mondi per città papà maullo e questo mi sembra un po addormentato raga questo mi sembra un po addormentato e non siamo riusciti a ammazzarlo riesce a ammazzarlo quello se l'ha mangiato quello no 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 ma non ci credo non ci credo che partenza stupida va bene la prima come dice qualcuno è dei bambini quindi la prima non facciamo caso perché hanno il colore quel colore giallino non piaceva quel colore giallino non piaceva arancioni siamo più belli rai arancioni siamo decisamente più belli continuiamo a mangiare qualcosa continuiamo a mangiare qualcosa raga ragazzi siamo a 112 piano piano stiamo salendo stiamo a 112 non è tantissimo però piano piano stiamo salendo dovremmo cercare comunque anche di ammazzare qualcuno ma non sono bravissimo ammazzare sono preferisco farmi fatti miei per esempio se noi acceleriamo e giriamo di botto ma bellissimo questo nostro no ma mamma mamma non ci credo ma non ci credo ma non ci credo avevamo ammazzato e non riuscite a ammazzarne uno ci hanno fregato e giustamente e siamo tornati a essere colore giallino di arrea signori me giallino di arrea vediamo se riusciamo o qua è morto qualcuno qua è morto qualcuno mangia 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 bello così raga ogni tanto un po di fortuna ecco il karma vedete la fortuna prima abbiamo perso e siamo già 206 punti raga siamo abbiamo recuperato i punti di prima continuiamo e continuiamo a salire così buono 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 qui c'è un po di confusione raga un po di troppo confusione quelli è morto grande ma che sei un grande amico mio come sei morto bene come sei morto bene mi piglio le tue la tua linfa vitale siamo a 320 raga siamo 320 bella così continuiamo a salire continuiamo a salire bello ne abbiamo ucciso un altro raga 400 400 400 480 buono buono ne abbiamo ucciso uno in accelerazione bella potente siamo arrivati a 467 piano piano stiamo salendo raga ricorda il nostro record è 2300 quindi dobbiamo riuscire a battere questo al record signori miei dobbiamo riuscire a raga ma porca di quella paletta ambriaca 533 533 mannaggia mannaggia niente uno piccolo ci ha tagliato la strada noi non abbiamo non siamo riusciti a girare in velocità veloce velocemente velocità veloci o velo cosa velo velo e qualcosa sta iniziando a laggare questa cosa non è per niente buona siamo morti di nuovo 27 nuovo record di peggiore nuovo record peggiore 27 nuovo record peggiore va bene così altra partita altra corsa raga quando è morto uno grosso quando è morto uno grosso nessuno si sta a mangiare queste cose ciappa 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 tutto ciappa tutto zio ciappa tutto bello così un po di fortuna anche per noi ogni tanto il problema è che sta tornando a laggare sta tornando il lag quello brutto pesante noi abbiamo mangiato tanto abbiamo mangiato tanto sì ma là c'è ancora qualcosa da poter mangiare mangia 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 che fame che abbiamo raga mangia 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 zio bello così 584 che siamo in una nuova fase di record per la puntata di oggi perché 594 non l'avevamo ancora fatto oggi quindi va bene così mi piacerebbe tantissimo riuscirne a chiudere una che poi sono sicuro che muoio io male se ne chiudo uno quindi o qua ci sono ancora semi segni di morte praticamente segni di morte che ci andiamo a pappare noi segni di morte gira velocemente non è zona per noi questa grazie questo vuole questo ci vuole rompere le scatole allora questo ci vuole rompere le scatole ce le rotte mannaggia a lui mannaggia perché perché sta laggando mannaggia a lui c'erano quasi riusciti 734 mannaggia mannaggia altro giro altra corsa raga ok siamo tornati al momento il colore giallo cacarella però va bene dico per ora ci tocca questo colore perché non mi da un bel colore rosso rosso speranza rossa fortuna qui per entrare in classifica bisogna fare 8 mila punti signori miei noi non arriviamo nemmeno a farne mille però ce la possiamo fare noi crediamo in noi stessi crediamo in stessi riusciamo a mangiare velocemente secondo me se mangio così consumo di più o mangio di più forse mangio di più se vado velocemente di sicuro lagga terribilmente di sicuro lagga terribilmente no sto consumando di più di quanto riesco a mangiare va bene ok allora continua a mangiare in maniera tranquilla maniera tranquilla vediamo di raggiungere 500 in maniera veloce raga vediamo di raggiungere 500 in maniera veloce raga sto seguendo questo viola sto seguendo questo viola che secondo me prima o poi schiatta prima o poi schiatta mamma mia mamma mia ho perso quello viola ma è morto quello è morto questa è morto questo giro 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 magnate tutto magnate tutto zio magnate tutto giro 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 va bene va bene va bene così va bene va bene raga 467 467 quando schiatta uno praticamente impressionante lagga in una maniera paurosa appena inizia appena schiatta uno grosso inizia a laggare però rimaniamo qui in zona ecco sta nuovamente laggando è morto un altro ma guarda guarda quanto ben di dio c'è da quel lato e stanno a mangiare tutto se stanno a mangiare tutto non mi hanno lasciato nemmeno le briciole nemmeno le briciole mi hanno lasciato brutti zozzoni brutti zozzoni nemmeno le briciole mi hanno lasciato oddio due briciole ci sono ma si sono ammazzati lagga terribile lagga terribile fermi tutti gino e dai però non mi puoi fare sta cosa dai ma no dai ci stavamo a riuscire ci stavamo a riuscire mannaggia raga avremmo mangiato l'impossibile avremmo mangiato avremmo mangiato le avremmo mangiato l'impossibile erano schiattati tutti ma porca di una paletta ambriaca ripartiamo ripartiamo non demoralizziamoci ripartiamo ripartiamo piano piano riusciremo a conquistare il mondo signori miei uuuh lì è morto uno lì è morto uno veloce 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 pappa di tutto pappa di tutto pappa di tutto ne abbiamo ucciso uno bello uno bello baldad e papa 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 bello qui ne è morto un altro papa 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 mamma mia come pappiamo ben dai 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 da astag pappiamo e che vuol dire mangiare a non pensate cose strane siamo a 700 330 raga nuovo mini record 730 e cerchiamo a mille secondo voi ci riusciamo arrivare a mille siamo abbastanza grossi signori miei mille già è un buon risultato già siamo uno dei serpentelli appetibili secondo me che possono subire una qualche attentata attenzione questo accelerato se non è questo schiatta di brutto non ha ucciso uno mannaggia lui non poteva lasciarla a me quelle cose no allora stiamo calmi se non ho intenzione di chiuderne nessuno perché non so fare la tecnica del chiudi ed evita di morire te stesso praticamente perché non lo so fare siamo 800 raga 800 siti 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 qua c'è sto piccoletto che può farlo se vuole fare lo sperto con noi evitiamo la è morto qualcuno ma purtroppo qui l'americano non nell'inglese non ci lascia niente da mangiare continuiamo a farci i fatti nostri belli tranquilli continuiamo a salire raga continuiamo a salire piano piano 955 raga che siamo morti stupidi 955 non ci posso credere non ci posso credere non ci posso credere mannaggia la pupazza ultimo tentativo raga ultimo tentativo dai a mille ci devo arrivare magari a mille ci deve arrivare raga magari a mille ci deve arrivare dai 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 ripartiamo 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 peccato erano diventati belli cicciosi belli belli cicciosi erano dei vermetti belli cicciosi e ci hanno e siamo morti in maniera stupida riesco a ucciderti bello vedi perché quando sono piccolo riesco a ucciderli tutti quelli stupidi né quando divento più grosso invece quelli stupidi non li becco più perché questo 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 allineamento dei pianeti non succede mai lì che stanno a fa stanno a ballare qua qua va bene noi evitiamo andiamo verso il centro verso il centro che dovrebbe essere la zona un po più in come sul dire questo vuole uccidermi questo vuole uccidermi questo vuole uccidermi e secondo me potrebbe fare una brutta fine se non sta attento perché l'ho ucciso io ahahahahah che goduria che goduria voleva fare lo sborone lo aveva fa lo sborone e invece l'abbiamo ucciso noi meno male che ci è finita bene ragazze non sapete che era un malafigure che facevo dai siamo a 356 dai 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 così 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 bello raga ne abbiamo ammazzato uno bellissimo bellissimo raga mamma mia che accelerazione che abbiamo avuto raga mamma mia che accelerazione sciappa di tutto sciappa di tutto no 944 mi dico mi dite voi una volta che ne ammazzo uno una volta che ne ammazzo uno ma porca miseria va bene basta così raga per oggi ci fermiamo qua per oggi ci fermiamo qua però dobbiamo tornare su questo gioco raga perché mi sto intrippando mi sto intrippando abbiamo un record che è di 2346 nel video di oggi non siamo arrivati nemmeno a 1000 però lo stiamo migliorando stiamo migliorando detto questo ragazzi vi ringrazio per i like per i commenti e per aver guardato questo video noi ci vediamo domani sempre qui sul canale per un prossimo video bella raga ciao